curabile se devo dirla tutta allora qui intanto ovviamente orba azzurra ecco l'ld del principino qua allora io noel cielo verde quindi tecnicamente se mi uscisse la sua fr non sarebbe male per me non sarebbe male non sarebbe male non sarebbe male io veramente in questo banner anniversario non ho trovato niente sto banner anniversario non ho trovato niente l'unica forse che ho trovata l'ho una forse che già avevo quindi non mi ricordo neanche chi era perché era una forse che già avevo ai uffi forse si ho trovato la forse di uffi addirittura ma per il resto non ho trovato niente è proprio zero niente allora è una cross tu che mi ha inzuppato nel tè fammi vedere qualcosa di bello tra l'altro noel noel è molto carino in realtà l'hanno fatto l'hanno fatto particolare diciamo che chi non ha sephiroth c'è chi non vuole usare sephiroth e chi non ha sephiroth paradossalmente può utilizzare noel per fare le combo con d'organ e con quei e con quei personaggi peccato che noel sia giallo e di personaggi gialli non è che ci sia un granché al momento è però noel è un inizio comunque è un grande inizio è un grande inizio noel cerchiamo è un parolone cielo verde noel quindi se mi uscisse la fr non sarebbe male se mi uscisse la forse di noel non sarebbe male perché comunque ce l'ho verde quindi ci sta voglio un pg rosso forte beh c'è rex dom usalo rex è così forte perché non lo vuoi usare perché ti ostini a non usarlo è vero che c'è la scivio settimanale c'è la c'è la scivio settimanale dobbiamo fare quale è uscita come c'è stato un loading ho visto un attimo il gioco la ghicchiare quella di dorgan oddio quella di dorgan non me la ricordo quella di dorgan però bisognava fare danni vento immagino eh sì eh sì avevo visto il lagghettino godo 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 va bene ma sinceramente io sinceramente io potrei anche smettere così un'altra fr di noel top va bene ok ci siamo passati la riuscienza